60 Seconds del lunedì pomeriggio, cari amici, un episodio a margine della tragedia in Israele, perché le notizie vanno sempre valutate, pesate, ma ingigantite e non sottovalutate. Comunque, ne voglio parlare perché, lo ammetto, mi ha colpito, anche perché banalmente, mentre tutti siamo colpiti da quanto è accaduto sabato, a quanto sta accadendo, proviamo a commentare, grazie, grazie veramente anche della grande partecipazione a tutti i contenuti della ragione, sui social, il podcast Attacco a Israele, che vi invito ad ascoltare, che è un contributo, un modesto contributo di comprensione, per quanto possibile evidentemente, dei fatti, che naturalmente andrà avanti nei giorni a venire. Ebbene, in una scuola, non citerò neppure, perché non mi va, ok? In una scuola superiore di Milano, un gruppo di studenti inneggia all'attacco di Hamas contro Israele. inneggia ovviamente nei modi che potete immaginare, che qui io non starò a sottolineare, ma comunque inneggia, parteggia, fa il tifo, per i tagliagole, per gente che ha sparato l'impazzata su un rave party, ammazzando 260 loro coetanei. Allora, io avrei veramente bisogno, avrei un bisogno quasi fisico di andare a parlare con questi ragazzi, innanzitutto per vedere di salvarli da loro stessi, dalla loro ignoranza. Partendo da qui, siete ignoranti, non sapete, non vi rendete conto, non avete coscienza, non avete mai studiato, e qui poi ad amarezza, si aggiunge amarezza, non vi hanno fatto studiare. A scuola? E a casa non oso immaginare quello che avete dovuto sentire. Magari non sempre, ma talvolta. Nient'altro. E poi, per carità, insultatemi pure, dite che sono schiavo degli americani, degli israeli, dite tutte le cavolate che volete dire. Ma io ve lo dico, siete degli ignoranti.